ragazzi dovete vedere questo filmato che è nelle mie instagram story prima di film dai vai vai avanti e poi perché succede questo a vedere come finisce in posizione questo splendido hotel di livorno abbiamo l'armadio con le quattro frecce bellissimi raga incredibile questo è per me e chi sono queste due ciccione cicciona 1, cicciona 2 Matti e cicciona 3 no, no, questa qua no Matti ma che bella sei I'm gonna miss this place ora qui c'è c'è trovato c'è trovato c'è trovato ok guess where we are Pisa che stai facendo? che stai facendo amor? stiamo qua con tutte le cagnoline come la regolatore di Pisa? la regge come la vuoi reggere? così Matti's not really impressed Greg is jumping Marty's on the milla Angie is I don't know you've already seen the tower so it's not so impressive se non sei since la casa delle armi qui a si che è la forza proprio